Benvenuti al secondo video tutorial sull'utilizzo di Ubuntu di base In questo video tutorial finalmente affronteremo il discorso di che cos'è il file system o quantomeno di com'è la struttura Linux soprattutto per quanto riguarda file e cartelle e perché per molti aspetti è considerato un sistema operativo più sicuro rispetto ad altri Durante l'installazione di Linux una delle ultime procedure è la richiesta di una password per un account Solitamente mentre su Windows c'è la possibilità di collegarsi al computer ed essere già amministratore di sistema in Ubuntu l'amministratore di sistema è colui che può fare la qualsiasi cosa, può anche andare a modificare file di sistema Solitamente però in Ubuntu quando si accede al sistema operativo, quindi all'interfaccia desktop come la vedete qua si ci collega sempre come un normale utente, quindi in questo caso Alessandro Buscema, cioè io risulto essere un normale utente e quindi sono impossibilitato ad andare a modificare alcuni file Utilizzando il terminale o comunque delle particolari operazioni in cui dovrò andare ad inserire la password posso cambiare il mio ruolo da normale utente ad amministratore di sistema o detto anche utente root Solitamente a differenza di Windows dove il file system è tutto il sistema operativo scusate, quindi dove se noi consideriamo questo come se fosse un file system del computer e dove risiedono tutti i nostri dati l'utente Windows può andare a scrivere, copiare, incollare dati su tutto l'hard disk indipendentemente dal discorso se è amministratore oppure un normale utente anche se anche in Windows solitamente ci sono queste distinzioni però solitamente chi vi accede è considerato anche l'amministratore di sistema Per quanto riguarda Ubuntu, non è così Per quanto riguarda Ubuntu, si può dire che la... partendo... va bene, ok consideriamo questa come prima casella indichiamo una slash questa slash sta ad indicare la root del nostro sistema quindi andiamo su computer ecco, file system questa root contiene al suo interno tutti i file che vedete qua dentro quindi conterrà tutte le cartelle che contiene la root sono bin, boot, cdrom, dev, etc, home, media e così via alcuni, la maggior parte, sono tutti i file che per essere modificati hanno bisogno di essere a conoscenza della password di amministratore mentre l'unico file che può... l'unica cartella, scusate che può essere modificata senza nessun problema è la cartella home in cui abbiamo tutte le cartelle dove andiamo a memorizzare i dati di più comune utilizzo come la cartella documenti, la cartella immagini, la cartella musica, la cartella video queste stesse cartelle, con gli stessi nomi, su e giù, le ritroviamo anche in Windows e in queste cartelle possiamo andare a sistemare i nostri dati personali ritorniamo per un attimo al file system rappresentato da questo slash come potete vedere anche qui vi è rappresentato uno slash che indica appunto l'inizio di tutto di tutto quello che viene memorizzato in Ubuntu ogni singolo file, ogni singola cartella quindi viene vista come una cartella che dipende da Ubuntu che è una sottocartella di questo slash quindi come potete vedere anche se il disegno è fatto abbastanza male ma vogliate perdonarmi ogni singola cartella dipende sempre dalla cartella slash che prende il nome anche di root ovviamente ogni sottocartella avrà poi le sue sottocartelle ad esempio se consideriamo questa cartella come scrivania indichiamo velocemente con S all'interno della mia scrivania scusate, questa dovrebbe essere la home come è giusto dove poi c'è memorizzata la scrivania comunque il procedimento è uguale a quello a cui siamo abituati in Windows per cui abbiamo le cartelle dentro altre cartelle la cosa che mi interessava mettere maggiore in evidenza è il fatto che solamente l'utente principale quindi l'amministratore del sistema è in grado di apportare modifiche all'interno di questa cartella infatti a rimarcare questo punto c'è il discorso che se io ad esempio faccio il tasto destro del mouse sopra una qualsiasi cartella le uniche operazioni che io posso fare sono apri oppure apri in una nuova scheda in una nuova finestra però già se io volessi cancellare questa cartella non potrei farlo almeno che non sarei l'amministratore di sistema e anche in questo caso potrei cancellarla solamente se fossi a conoscenza della password e solitamente tramite terminale magari vedremo più avanti cos'è il terminale anche se oggi già lo cominceremo a vedere per dei brevi utilizzi stesso discorso se io clicco col tasto destro del mouse su un punto vuoto e volessi creare una nuova cartella o un nuovo documento non posso farlo proprio perché non sono l'amministratore di sistema mentre se io sono l'amministratore di sistema quindi ho la possibilità di andare a modificare anche questo file io posso semplicemente tramite un breve comando sudo makedir nuova creare e inserendo la password posso creare una nuova cartella ho sbagliato la password sudo makedir nuova oh, file già, sì, sì, sì scusate se io non inserisco niente prima di nuova verrà copiata nella nostra home ecco qua la cartella nuova se io invece inserisco il percorso dove andare a inserire quindi prima di nuova pongo ancora una volta il nostro slash ecco, in questo momento io sto indicando al computer di dover, al sistema operativo di dover creare questa nuova cartella all'interno della cartella principale facciamo un aggiornamento ecco qua la nostra cartella di questa cartella io non posso cancellarla da normale utente posso cancellarla solamente se sono l'amministratore o l'utente root per cui se io voglio cancellare la cartella devo fare sempre sudo che mi sta ad indicare un comando dato da amministratore rm-r slash nuova bene, in questo modo io sono stato in grado di eliminare la cartella quindi proprio per questo possiamo capire come effettivamente Ubuntu sia abbastanza sicuro rispetto ad altri sistemi operativi in quanto all'utente normale o comunque anche ad un utente che riesce ad entrare da internet se non è a conoscenza della password non è data la possibilità di andare a modificare quelli che sono i file di sistema e quindi di arrecare danni al sistema e questo capite bene che è un gran vantaggio con questo non significa che nel momento in cui io accedo al sistema operativo non posso modificare nulla all'interno del sistema operativo anzi il contrario io avrò una cartella che è quella dedicata all'utente normale che prende il nome di cartella home dove al suo interno abbiamo la cartella in questo caso alle inox che indica l'amministratore scusate che indica l'utente del computer e quindi in questa cartella io posso andare ad apportare tutte le modifiche che voglio quindi che so creare una nuova cartella o creare un nuovo file da questo si capisce come effettivamente le uniche modifiche che io vado a fare le vado a fare all'interno di uno spazio ristretto che magari col tempo diventa grande quanto tutto l'hard disk del nostro computer però sicuramente non va ad intaccare i file appartenenti al file system i file principali che solo un amministratore e quindi solo colui che sa effettivamente quello che sta andando a fare può andare a modificare ad esempio io ho impostato nel mio computer questa hard disk alessandro 490 GB che si avvia quindi viene aperto o in gergo si dice viene montato all'avvio del sistema e per fare queste modifiche ho dovuto andare a modificare dei file di sistema più esattamente ho modificato questo file questo file per modificare questo file l'ho potuto modificare solamente andando ad inserire un comando da terminale preceduto dalla scritta sudo ma questo è un discorso che magari affronteremo in futuro per cui concentriamoci per il momento nell'unica cartella che siamo autorizzati a modificare che è come dicevo prima la cartella home e dentro la cartella home abbiamo la cartella alle inox e dentro la cartella alle inox abbiamo tutte le altre cartelle che rappresentano che rappresentano le cartelle che noi siamo autorizzati a scrivere dove per scrivere si intendono tutte quelle cartelle per le quali possiamo apportare modifiche fanno eccezione a questa legge i dispositivi dove per dispositivi indicheremo eventuali harddisk esterni open drive che vengono collegati questi dispositivi così come li chiama ubuntu sono dei dispositivi nei quali possiamo apportare delle modifiche ad esempio se io volessi montare questo harddisk io in questo harddisk posso copiare all'interno un file questi harddisk sono in ntfs per gestire l'ntfs in linux si deve installare un programma molto semplice che vedremo magari nel momento in cui andremo a trattare come installare programmi in linux per il momento accontentiamoci di sapere che i file che possiamo modificare o le cartelle che possiamo andare a modificare quindi possiamo andare ad inserire dati in queste cartelle sono quelle che riguardano harddisk floppy e la nostra cartella home solitamente in linux a differenza di windows ogni cosa che noi vediamo è trattata come una cartella e farò velocemente vedere scusate è trattato come un file i dispositivi rappresentano file particolari facciamo vedere velocemente questo discorso ma non approfondiremo più di tanto in quanto non è un argomento che ci riguarda per l'utilizzo quotidiano di linux magari se dovessi ideare un corso avanzato questo discorso invece verrà ampiamente trattato possiamo vedere che dentro la cartella media vi sono le cartelle che abbiamo aperto fino ad ora vedete se io apro un ict e poi torno indietro ecco è comparsa questa cartella che prima non c'era questo proprio per farci capire come ogni file in linux soprattutto se questo file è un file particolare può riuscire a rappresentarmi eventualmente anche un dispositivo facendo questo tasto di eject espelliamo il nostro quindi facciamo un unmount cioè smontiamo il nostro dispositivo e non possiamo più utilizzarlo finché non faremo un nuovo mount del dispositivo bene a questo punto possiamo andare nella nostra cartella home finalmente e vedere come effettivamente io all'interno di questa cartella posso andare a copiare creare e così via dei file il procedimento è molto semplice ad esempio prendiamo questi due file e cancelliamoli o con cancio oppure premendo tasto destro sposta nel cestino e vediamo che qui in basso il cestino si sta cominciando a riempire la procedura è simile a quella che abbiamo utilizzato fino ad ora in windows l'unica differenza che avevamo era della struttura perché mentre in windows siamo in grado di toccare qualsiasi file anche di sistema in linux questo non ci è permesso bene con questo penso di aver concluso in questo momento quella che è considerata la struttura del file system di linux e come vengono utilizzate le cartelle possiamo aggiungere che un altro metodo per raggiungere velocemente una cartella una di quelle cartelle già viste in precedenza è quello di avviare facendo il tasto start della nostra tastiera o il tasto logo di windows oppure cliccando qui sul home della dash e andare su questa specie di documento bene qui in basso potete vedere come effettivamente ci siano le cartelle che ci interessano e quindi le possiamo raggiungere in modo più rapido un altro modo di raggiungere una cartella che possibili mentre abbiamo memorizzato all'interno della nostra home è quello di creare un collegamento ad esempio se io sono abituato ad avere le mie icone qui sul desktop ad esempio della cartella video posso crearmi un collegamento tramite l'apposito menu a tendina quindi tasto destro sulla cartella che mi interessa e poi crea collegamento in questo momento ho creato il collegamento lo trascino fuori oppure utilizzo le operazioni di taglia e incolla magari questo lo rinomino lo chiamo video ebbene in questo momento ho creato un collegamento alla cartella video quindi se io lo apro si apre la cartella video discorso analogo posso fare anche per un qualsiasi file ho la possibilità di creare un collegamento e quindi di andare a nascondere il file e operare tramite il collegamento io personalmente non uso molti collegamenti perché li trovo abbastanza inutili però magari a chi riesce a gestirsi meglio a chi piace avere delle icone sul desktop può utilizzare eventualmente i collegamenti alla fine abbiamo il nostro cestino che funziona in modo molto diverso da Windows diverso perché mentre nel cestino di Windows noi siamo sempre in grado di ripristinare un file anche quando questo viene cancellato dal cestino di Windows nel cestino di Ubuntu questo discorso non può essere fatto perché nel momento in cui io vado su svuota cestino ho concluso non c'è più modo di andare a recuperare i file in quanto questi file vengono memorizzati in una cartella particolare magari qualcuno più esperto in questo momento avrà qualcosa da ridire ma lasciatemi passare per il momento questa espressione quindi memorizzati i file in questa cartella particolare che chiamiamo noi cestino una volta cancellati questi file non sarà più possibile andarle a riprendere quindi li avete persi in modo permanente bene con quest'ultima chicca penso veramente di aver concluso ci rivediamo al prossimo tutorial in cui andremo a conoscere ancora più approfonditamente il nostro amato sistema operativo ogni video potete trovarlo sul mio canale youtube quindi andate su youtube e poi cercate Aleinux oppure andate sul sito www.aleinux.it in cui troverete tutta la playlist riguardo questo corso di base sull'introduzione ad ubuntu se il video vi è stato utile lasciate commenti arrivederci alla prossima grazie a tutti